Il piano territoriale di coordinamento Il piano territoriale di coordinamento Il piano territoriale di coordinamento Dal singolo imprenditore, al comune, alle associazioni Di ogni tipo, da quella ambientalista a quella di categoria Potrà formulare delle osservazioni Credo che questi 60 giorni siano un grandissimo momento di partecipazione E credo che quella che era rimasta l'ultima ruota del carro Ovvero la provincia di Napoli Oggi finalmente ha pubblicato il piano E si avvia a dotarsi di un vero strumento di pianificazione Dunque, il documento è stato predisposto da una parte tecnica Quindi da tecnici e da esperti Adesso i comuni faranno delle osservazioni Ma se lei dovesse riassumere dei punti cardini di questo piano Cioè in che modo, diciamo, la città metropolitana Organizza il territorio attraverso il piano territoriale Ma guardi, principalmente è chiaramente uno strumento Che è pronto da diversi anni Però ha dei principi generali importantissimi Prima cosa è quello del consumo del suolo Cioè basta a semplici cementificazioni Che di fatto hanno distrutto già il nostro territorio urbano È diventato tutto urbanizzato E abbiamo perso quella caratteristica anche rurale Che in molte zone della provincia Ma anche all'interno di Napoli avevano Quindi è un piano che cerca sicuramente di non consumare più suolo L'intero piano metropolitano ha anche un grande parco verde Nell'area nord di Napoli Cioè ci sono alcuni criteri importantissimi Per quello che è la salvaguardia dell'intero piano metropolitano Ha un'anima sicuramente legata al territorio Al consumo del suolo E questo è un aspetto molto importante È molto aggiornato per i nostri giorni E noi abbiamo una città metropolitana Che è interamente urbanizzata Sappiamo bene che già percorrendo una strada Vediamo comune dopo comune Che non c'è interruzione A differenza delle nostre altre province Per esempio Salerno, Benevento, Avellino, Caserta Dove c'è Ci sono zone verdi immense Noi abbiamo solo alcune parti del territorio Che sono legate di più al paesaggio e al verde in generale Questo piano sicuramente ha la caratteristica di salvaguardare E poi dare dei criteri ai comuni Che devono continuare a pianificare Sicuramente devono continuare ad avere dei pesi insediativi Che devono inserire nel loro PUC Ma chiaramente in una maniera equilibrata E quindi il piano detta proprio dei criteri che verranno utilizzati da tutti i comuni Credo che però sia un argomento molto vasto Difficilmente ecco in pochi secondi, in pochi minuti È difficile descrivere un piano di una complessità Che lo dicevo prima va da una parte strategica A una parte di pianificazione urbanistica Credo che ci sarà occasione nei prossimi giorni Magari di presentare il piano da parte della città metropolitana In modo da spiegare anche con la visione della cartografia Che è presente in questo piano Che è presente nel sito della città metropolitana Anzi chi volesse visitare il sito e vedere la pianificazione Lo invito a farlo perché è interessante Lo faranno sicuramente i comuni o chi deve fare le osservazioni Ma credo che noi una presentazione ufficiale La faremo ai primi gennaio Proprio per divulgare quello che è un grande esempio di pianificazione E ricordando che eravamo l'ultima provincia che non aveva ancora questo strumento Due domande velocissime La prima, in genere si attacca alle città metropolitane Perché non garantiscono una partecipazione dei soggetti maggiormente interessati Cioè i comuni Questo documento invece mi sembra che richieda addirittura il loro diretto contributo La seconda domanda è questa Insomma, i comuni devono essere preoccupati del PTC Cioè il senso che in molti pensano che il PTC potrebbe in qualche modo Limitare l'autonomia, le scelte edilizie e anche urbanistiche dei comuni È così o no? Allora la prima domanda Noi stiamo facendo una grande opera di partecipazione L'abbiamo invitato tutti e 92 sindaci o loro delegati A dare una spiegazione dettagliata su che cos'era il PTC E come loro potevano partecipare Quindi sicuramente stiamo al servizio loro Io personalmente intendo la città metropolitana come una struttura Come un ente di aiuto alle comunità locali In maniera diversa magari da quello che era l'ex provincia Noi dobbiamo servire gli enti locali Quindi in ogni modo Quindi sicuramente si aprirà questa grande fase di partecipazione Le osservazioni sono un aspetto importantissimo Perché i comuni chiaramente negli anni hanno pianificato Con varianti, con dei PUA Le osservazioni servono proprio anche a correggere Eventuali magari errori Che erano stati sottovalutati all'interno della cartografia Quindi a nessuno verrà levata questa possibilità Però vorrei ricordare che l'intero piano subisce due o tre filtri Il primo è nel momento in cui dopo i 60 giorni Vengono presentate le osservazioni Ecco l'approvazione di queste osservazioni O l'eventuale bocciatura O la modifica di queste osservazioni Verrà fatta in una conferenza dei servizi Dove sono presenti tutti e 92 sindaci e loro delegati Solo in quel momento Nel momento in cui viene varato da tutti i comuni Va in consiglio metropolitano E anche lì ci potrebbero essere degli emendamenti Da parte del consiglio metropolitano Quindi credo che i comuni non devono temere Questo strumento di pianificazione Devono essere contenti di avere dei criteri Perché il più delle volte Quando si pianifica senza un grande piano Come questo È difficile Sia da parte degli uffici Quelli centrali della città metropolitana E sia quelli dei comuni Che si devono attenere comunque a delle regole Per esempio se parliamo di pesi insediativi È chiaro Non si può pensare che un comune Magari si carica tutto il peso insediativo E un altro magari non ha peso insediativo Tutto viene fatto in equilibrio Con le determinate proporzioni Ma con una visione regionale Una visione regionale del PTC Ricordiamoci che c'è il PTR E il piano territoriale regionale E il PTC si attiene al PTR Quindi è una catena che va seguita Ma che dà istruzioni, criteri E io dico anche un'anima Legata al territorio Per la pianificazione comune per comune Per la pianificazione comune per comune E io dico che c'è il giro